ciao ragazze in questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato da essence durante i saldi in realtà sono meno prodotti di quelli che presumevo di acquistare perché comunque ho fatto prima un primo giro poi improvvisamente già col primo giro c'erano pochissimi prodotti scontati e poi improvvisamente non ho visto nient'altro scontato hanno rimodernato qualche vs qui nella mia città e quindi ho preso pochissimi prodotti però volevo mostrarveli perché erano prodotti comunque che volevo provare i prodotti sono sei e costavano tutti 1 euro 29 l'uno e niente voglio iniziare a mostrarveli ho preso tre di questi ombretti qua che come sapete mi piacciono tantissimo sono della scorsa collezione comunque ci sono ancora alcuni colori sono andati in sconto siccome mi sono trovata benissimo ne ho uno tendente al marroncino tendente al malva che mi piacciono tantissimo e quindi sapendo che erano scontati li ho voluti prendere soprattutto per il prezzo questo comunque nello specifico è il numero 0 7 all'interno hanno 2,8 grammi di prodotto e scadono dopo 36 mesi comunque la colorazione è questa e vi faccio lo swatch sono molto settosi sono proprio velvete come come c'è scritto e hanno con tutta questa trama così che sembra quasi di un maglione a me piace tantissimo e la colorazione è questa quindi un marroncino che secondo me va benissimo anche nella piega adesso ne ho preso un po sembra così un libido nella piega e sicuramente lo utilizzerò così perché come sapete mi trovo benissimo con le ombretti cotti di essence c'è ne uno che amo tantissimo che utilizzo tutti i giorni nella piega quindi sicuramente quando termino quello utilizzerò questo però considerate che quello sono più o meno a metà e avevo anche la conca sono riuscita a formare un buco è però ce n'è ancora tantissimo e questo sostituirà sicuramente quello poi ho preso sempre di the velvet questa colorazione qui quindi questa è la 0 9 bahama hama anche qua ci sono 2,8 grammi di prodotto e ha 36 mesi di pao questa è una colorazione che secondo me è stiva un celestino però che sembra quasi dei glitter all'interno è sicuramente utilizzerò tantissimo in questo periodo erano dei colori che andavano tantissimo la scorsa estate ma è di quei colori che si utilizzano sempre la colorazione è questa in cui sembrano che ci siano dei glitter però in realtà qua sembra matte quindi un celestino che è questo qua e secondo me sfumato può essere utilizzato anche sotto l'arcata sopraccigliare oppure per illuminare lo sguardo oppure al centro dell'occhio non lo so e volevo provarlo quindi l'ho preso e poi il terzo ombretto è questo è lo 08 coral me maybe e questo avevo intenzione di prenderlo da quando era uscito però non lo so forse perché avevo la palette di Too Faced quella sweet peach che è tutto sul corallo sui colori pescati e quindi l'avevo un po' tralasciato però lo volevo prendere proprio perché comunque dalla scorsa estate utilizzo anche quei colori mi sono accorta che lo utilizzo tantissimo soprattutto in primavera estate e quindi ho voluto prenderlo per provarlo e la colorazione è questa quindi un color pescato che secondo me appunto va benissimo in questo periodo e che non vedo l'ora di provare comunque come avete capito mi sto fissando tantissimo con queste colorazioni qua poi ho preso un mascara che è questo qui che si chiama forbidden volume è un top coat in realtà io mi sono sempre trovata benissimo con il top coat anche con il base coat utilizzavo tantissimo quello bianco di essence solo che troppo bianco e alla fine non l'ho più utilizzato perché comunque dovete trovare un mascara da mettere sopra che sia molto nero altrimenti le cilie servono quasi grigie però volevo provarlo e quelli li ho terminati e ne ho terminato due di quelli bianchi quindi mi sono sempre trovata bene comunque questo all'interno ha 10 ml di prodotto e a 6 mesi di pao come tutto il mascara volevo mostrarvelo perché tanto sicuramente lo utilizzerò adesso sto utilizzando tantissimo quello nuovo dell'alloreal che ho acquistato da poco tra un po' vi farò anche una recensione lo scovolino è questo quindi lo scovolino è abbastanza normale e vedo che il mascara è abbastanza denso non lo so lo proverò poi vi farò sapere come mi sono trovata e poi ho preso due prodotti per le unghie uno è questo che è il quick and easy sponge nail carrying oil con olio di mandorla all'interno ci sono 35 ml di prodotto e a 12 mesi di pao praticamente assemblano come quei diciamo leva smalto dove voi pigiate il dito e vi evito lo smalto immediatamente mi trovo benissimo con quello della royal beauty quando lo finisco lo riacquisto lo costo sempre 1,90 euro o da sapone o da sapone profumi che è una catena che c'è qui in sardegna questo in realtà non è per togliere lo smalto ma è per idrattare un po' la zona delle unghie ed è fatto così praticamente all'interno quindi c'è sempre la spugnetta però non la fa smalto e poi ho preso l'ultimo prodotto sempre per le unghie questo che praticamente è uno smalto di quelli di jellis che con quello mi sono trovata benissimo la scorsa estate comunque sono degli smalti che io gli smalti li cambio dopo tre giorni quindi comunque vanno cioè vanno benissimo per me nel senso che costano poco e devono durare quei due tre giorni e ce la fanno perché a me piace cambiare molto lo smalto di sotto mi vedete sempre senza smalto perché io registro il video poco prima di cambiarlo comunque magari la prossima volta vi faccio anche un video dove vi mostro anche tutti gli smalti che ho qui in alto in realtà ho dei portarritratti Ikea che ho pagato 5 euro l'uno dove ho messo tutti gli smalti ne ho tantissimi e comunque dicevo mi trovo benissimo con questi sono leggermente quasi effetto gel questo è lo 030 flying flamingo è a 8 ml di prodotto e 24 mesi di pago l'ho preso perché è un color pesca tendente un po' all'anguria e secondo me va benissimo per il periodo estivo quindi l'ho voluto prendere e niente fatemi sapere voi se avete preso qualcosa con i saldi di essence cosa ne pensate di questi prodotti se li avete mai provati se volete consigliarmi qualche prodotto di essence che magari non vi ho mai mostrato oppure volete consigliarmelo magari lo proverò se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto ciao